ciao benvenuto a questo nuovo incontro io sono erico gamba sono uno psicologo uno psicoterapeuta e oggi ti parlerò di amore ti parlerò di amore di coppia e in particolare di quali sono le strategie o meglio i segreti che dobbiamo davvero riuscire a interiorizzare per riuscire ad attrarre nella nostra vita la persona che vorremmo per riuscire davvero a realizzare un pochino quell'immagine quell'idea che abbiamo di poter avere una relazione di coppia davvero davvero soddisfacente allora ti dirò diverse cose in particolare vorrei focalizzarmi su cinque aspetti importanti sui cinque aspetti fondamentali allora il primo il primo aspetto sul quale davvero bisogna fare molta 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 chiarezza ha a che fare con questo stesso desiderio che tu stai avendo ovvero quello di trovare una persona nella tua vita ovvero il perché hai cliccato su questo video il perché mi stai ascoltando su questo argomento vedi se lo hai fatto molto probabilmente perché appunto tu sei nell'ottica di voler trovare qualcuno nella tua vita questo cosa vuol dire vuol dire che nella tua vita senti che manca qualcosa senti che manca una persona senti che manca una relazione o meglio questo è quello che probabilmente sei convinto convinta mancare nella tua vita la domanda che però a questo punto ti faccio è perché proprio questa cosa perché è proprio questo l'elemento che marca vedi sai qual è uno dei problemi più grossi della nostra società e che noi nasciamo in esse cresciamo in essa e quando questo accade quotidianamente appunto per tutti semplicemente interiorizziamo facendo nostre quelle che sono un po le regole che vediamo essere la guida della vita di tutte le persone che ci circondano cosa vuol dire vuol dire che è un po come un pesciolino che incontra un altro c'era questa bella favoletta zen no che dice com'è l'acqua dalla tua parte e l'altro lo guarda e chiede ma che cos'è l'acqua ok cioè il punto è che noi nasciamo cresciamo all'interno di un sistema dove vi sono all'interno delle regole complesse che in qualche modo ci dicono come dobbiamo operare nella vita che cosa ci rende felice che cosa ci rende tristi che cosa ci dà benessere che cosa invece ce ne toglie e vedi culturalmente a partire ancora da dante alighieri cretiente trua la cavalleria cortese quant'altro noi abbiamo creato nel nostro immaginario culturale un'idea potente che solamente andando a trovare l'altra metà qua ancora i greci no democrito andando a trovare l'altra metà noi potremmo davvero essere felici per cui ecco se sei arrivato a questo video domandoti come posso incontrare la persona della mia vita la prima cosa che ti suggerirei di fare è proprio quella di domandarti ma io perché sto cercando questa persona perché penso di poter essere felice di potermi a realizzare di poter vivere davvero appieno la mia esistenza solamente incontrando un altro o un'altra perché vedi questa è una questione non così scontata perché come ti ho detto a che fare con un assetto culturale che ha delle conseguenze abbastanza importanti nella nostra vita banalmente quella che io non mi posso sentire realizzato se non riesco a vivere una relazione di coppia secondo quali canoni peraltro quelli che in qualche modo sempre la società mi ha in qualche modo inculcato e qua ancora con tutte le fiabe le favole per esempio con walt disney no con la la bella addormentata ce n'era entro nel principio azzurro insomma tutta una serie di condizionamenti culturali che in qualche modo dentro di me si sono stratificati andandomi a portare ad avere certi desideri e certe visioni per cui ecco a prescindere da quello che ti dirò ora i cinque segreti per attrarre nella tua vita una persona con la quale vivere bene la tua esistenza poniti questa domanda poniti questa domanda fondamentale in realtà dovremmo porcela sempre ma è perché io come dire vado a proiettare sulla realizzazione di questo desiderio la mia felicità e ovviamente cerca di darti una risposta una risposta che possa aiutarti davvero a capire che in realtà ecco noi dovremmo puntare più che altro su di noi e veniamo così alla prima questione fondamentale primo segreto il primo aspetto importante sul quale focalizzarci noi stessi vedi se tu vuoi davvero essere amato se tu davvero vuoi essere amata la prima persona che deve iniziare ad amarsi sei tu la prima persona che deve iniziare a prendersi cura di se stessa sei tu ma perché è ovvio questo ha delle implicazioni inevitabili se io mi amo se io mi prendo cura di me stesso di me stessa io divento una persona migliore su tutti i livelli ok il livello fisico per esempio inizio a prendermi cura del mio corpo oggi sappiamo ma lo sappiamo da sempre che il corpo ha bisogno di fare attività non siamo fatti per stare seduti per vivere una vita sedentaria noi siamo fatti per essere in movimento per fare sport per sviluppare potenza muscolare flessibilità resistenza questi sono i tre aspetti che dobbiamo sviluppare il nostro corpo necessita di mangiare cibo sano necessita di mangiare cibo poco raffinato cibo cibo di stagione banalmente sono quelle regole di base che ormai tutti bene o male sappiamo ecco dobbiamo attenerci un pochino a queste cose se io faccio questo e lo faccio su tutti i livelli appunto a livello della mente ho bisogno di meditare perché la meditazione mi pulisce la mente la mente si sporca quotidianamente nelle relazioni alle situazioni con tutti i device che in qualche modo ci sommergono di immagini di informazioni la mente ha bisogno di essere tenuta pulita e per farlo io la devo lavare come mi lavo i denti come mi faccio la doccia allo stesso punto allo stesso livello per cui mi devo lavare la mente per lavare la mente devo meditare la meditazione è lo strumento per pulire la mia mente e di questo ne ho parlato veramente fino all'esasperazione trovi nel mio sito su youtube nei podcast tantissimo materiale e così su tutti gli altri livelli come ti dicevo le relazioni bisogna di vivere certi tipi di relazioni certi tipi di attività ecco se io oggettivamente mi prendo cura di me stesso mi amo io inevitabilmente sarà una persona migliore sarà una persona più in forma più bella più serena più pacifica più in armonia ma anche l'aspetto finanziario vuol dire amarsi no prendo cura dei miei dei miei dei miei interessi dei miei bisogni per cui anche questo vuol dire che sono una persona indipendente autonoma che sta bene insomma amarsi è il presupposto fondamentale cioè se io rimango in una posizione psicologica che quella un po del bambino aspetto che arrivi qualcuno che mi salverà no il principe azzurro io è chiaro che continuerò a stare in una condizione di sofferenza vedi uno dei più grandi bisogni di noi esseri umani il più grande bisogno secondo me di noi esseri umani è quello di sentirci amati incondizionatamente sentire che c'è un altro che ci ama prescindere a prescindere da come siamo belli brutti simpatici antipatici ricchi poveri qualsiasi cosa sentire che qualcuno ci ama prescindere ok questo è il bisogno che tutti noi abbiamo profondo radicato innato dentro di noi e non capita spesso nella vita di trovare una persona che ci riservi questo amore ma di certo l'unica persona che può farlo siamo noi stessi questa è l'unica persona che davvero può amarci così siamo noi alcuni hanno la fortuna di aver avuto una mamma buona una mamma che ci ha amato con questo stesso amore però vedi siamo noi la persona che più di tutte ci può amare così e quando noi iniziamo colmarci di questo amore quando noi iniziamo davvero ad amarci incondizionando incondizionatamente che non vuol dire a io vado bene così punto vuol dire io vado bene così io mi amo e ora parto perché voglio crescere voglio migliorarmi voglio sviluppare ma perché è bello farlo perché è bello sviluppare l'intelligenza su tutti i livelli perché l'intelligenza tantissime sfaccettature è bello sviluppare l'amore è bello sviluppare l'arte è bello sviluppare la competenza atletica tutti questi aspetti sono bellissimi capisce se io mi amo incondizionatamente è normale per me crescere in tutto questo è normale trovare delle passioni e svilupparle farle crescere normale per me appassionarmi alla vita le cose capisce quando accade questo quando io mi amo oggettivamente mi amo capisci che inevitabilmente gli altri mi amano perché le persone naturalmente vedendo mi dicono wow guarda come sta bene quella persona guarda come felice guarda come realizzata addirittura cercano di emularla capisci la seguono vorrebbero stare con lei è normale allora il primo passo se vuoi davvero attrarre a te qualcuno di importante nella tua vita e impara ad amarti perché vedi questo peraltro ti permetterà anche di selezionare le persone perché se io mi amo io non andrò con un narcisista che egoista che vuole solamente no non mi farò fregare capisce dal love bombing non succederà perché io mi amo capisco che se uno dopo tre giorni mi dice ti amo ti voglio sposare voglio vivere la mia vita con te io dico no aspetta un attimo calma calma giude dos voglio vivere prima la mia vita voglio star bene poi non so se vediamo che le cose funzionano magari passo dopo passo iniziamo a ragionarci ma capisci che se io invece sono nella posizione di dirmi o dio mio che qualcuno mi ami rimarrò solo sola non avrò nessuno che mi amerà arriva uno che mi promette l'america ma è ovvio che dico wow ste con me e poi rimango fregato quindi primo punto impara ad amarti questo è davvero 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 il primo passo importantissimo il secondo il secondo segreto perché secondo passaggio la tua visione dell'amore cerca di avere una visione chiara dell'amore perché se la tua visione dell'amore ancora è quella di trovare il principe azzurro tu soffrirai basta ma perché non esiste perché non c'è o meglio guarda può capitare io non dico che non possa capitare cioè può capitare di incontrare una persona con la quale c'è un'affinità talmente peculiare talmente bella talmente profonda che le cose vanno le cose vanno bene sempre per tutta la nostra vita insieme può capitare devo dirti io nella mia vita come personale ma anche e soprattutto professionale che mi ha dato la possibilità di incontrare migliaia di persone belle persone devo dirti che una relazione così non l'ho quasi mai incontrata non l'ho quasi mai vista e dico quasi proprio per lasciare un pochino intendere che forse c'è la possibilità ma sinceramente se proprio devo andare ad analizzare nel dettaglio non è che trovi questo quello che più tipicamente invece trovo è il fatto che una persona certo punto sceglie di vivere insieme ad un'altra e questa scelta è reciproca insieme si sceglie di costruire qualcosa e allora là dove c'è questa scelta che un elemento fondamentale anche di questo bisognerebbe parlare a lungo là dove c'è questa scelta nasce anche la consapevolezza che non andrà sempre bene che a volte sarà difficile che andremo in confusione che andremo in conflitto che litigheremo che alle volte non ci ameremo nemmeno ma è lì che la nostra scelta ci permetterà di continuare ad amarci di continuare a tirar fuori energia desiderio voglia di costruire responsabilità perché anche questo è amore allora ecco se il tuo motto è sarà eterno finché dura un po quel film di verdone di tanti anni fa ma allora sappi che potresti incontrare molte difficoltà nell'attrarre una persona con la quale vivere bene alla tua vita sappi che forse è proprio un po sbagliato approccio alla vita perché in realtà non dovrebbe essere questa la visione la visione dovrebbe essere semmai quella di stare bene io sto bene mi sento realizzato mi sento felice sono una persona autonoma e chiaramente vorrei condividere questo con qualcun altro allora cerco una persona che abbia una dimensione valoriale simile alla mia che abbiano dimensione valoriale come questa che sia finalizzata davvero a costruire insieme qualcosa qualcosa di valore nella consapevolezza che ci saranno difficoltà ma che è proprio lì che insisteremo proprio lì che lotteremo per salvaguardare ciò che avremmo creato è lì che porteremo avanti il nostro obiettivo comune di copie grazie appunto a questa progettazione che avremmo fatto insieme allora se questa la tua visione allora capisci bene che questo ti ti proteggerà anche appunto da situazioni come quelle che ti dicevo prima o da tante altre che potrebbero capitarti non è semplicemente a sì stiamo bene che bello mi trovo bene non so niente del suo passato non so niente la sua storia non conosco gli amici non conosco i genitori non so nulla ma va bene ci vogliamo bene c'è un bel sentimento c'è un bel feeling andiamo avanti così e magari ci impegniamo facciamo figli costruiamo cosa capisci quelle follia secondo me perché io devo conoscere volte impieghiamo mese a scegliere una macchina e cavoli non ci diamo il tempo di conoscere davvero una persona una persona con la quale poi scegliamo di costruire la nostra vita insieme ecco quello secondo me davvero un aspetto importante per cui fatti delle domande rispetto alla tua visione dell'amore come lo collochi nella tua esistenza qual è il ruolo che gli vuoi dare e soprattutto quello cosa sei disposto anche tu per esempio a mettere sul tavolo oggi molte persone non hanno più voglia di rinunciare ma l'amore rinuncia certo che rinuncia perché io rinuncio a tutti gli altri per una persona io rinuncio ad un certo tipo di vita per quella persona perché insieme a lei voglio costruire qualcosa che chi chi sarà unico e se non facessi questa rinuncia quel qualcosa non lo potrei avere capisci perché sarà qualcosa di molto importante sarà famiglia sarà vita insieme capisci questo è qualcosa di molto prezioso ma se lo devo essere disposto a fare una rinuncia e anche l'altro e questa cosa ce la dobbiamo dire e non solo ce la dobbiamo dire dobbiamo davvero averla maturata dentro di noi deve essere frutto davvero di un processo interiore che dobbiamo condividere insieme per questa è un po la garanzia capisci comunque terzo aspetto terzo aspetto che devi considerare se davvero vuoi trarre una persona così davvero di valore nella tua vita cerca di essere aperto alle nuove possibilità cerca di essere aperto alle nuove esperienze vedi se vivi sempre nella tua piccola zona di comfort difficilmente potrai incontrare persone nuove difficilmente potrai sperimentare nuovi ambiti difficilmente potrai così assaggiare la vita e quindi davvero permettere anche alla vita di produrre delle occasioni per incontrare persone situazioni per innamorarti per vivere delle dinamiche piacevole apriti alla vita se da troppo tempo fai sempre le stesse cose c'è qualcosa che non va perché la vita è mutamente cambiamento la vita è talmente immensa talmente ampia che ci offre talmente tante possibilità che se ne facciamo sempre le stesse cose c'è qualcosa che non va possiamo esplorare sport possiamo esplorare attività possiamo esplorare ambienti possiamo esplorare culture possiamo esplorare conoscenze c'è tantissimo là fuori che aspetto solamente di essere scoperto allora se io continuo a fare sempre le stesse cose c'è qualcosa che non va se vuoi attrarre nella tua vita qualcuno di interessante diventa tu una persona interessante è una persona interessante una persona che vuole conoscere che vuole esplorare che vuole ampliare i propri orizzonti impara una nuova lingua sviluppa una nuova cultura insomma davvero appassionati a qualcosa apri la mente perché questo vedi è davvero davvero importante è il segno di una persona viva di una persona che vuole vivere di una persona che vuole crescere e questo naturalmente attrae anche le altre persone ma è ovvio scontato è naturale comprendere questo per cui ecco il terzo suggerimento che ti do è proprio questo espandi la tua visione esci dalla tua zona di comfort esponiti a situazioni nuove che ti portino ad accrescere la tua conoscenza e la tua competenza perché questo naturalmente attrarrà nella tua vita persone di valore quarto aspetto importante quarta dimensione importantissima di cui prendersi cura te l'ho già un pochino accennata e quella veramente di coltivare i tuoi interessi rimanere nella posizione di dire mi auguro di incontrare qualcuno di interessante magari andare anche su siti di incontri usare applicazioni per conoscere persone basta è una strategia usala va bene va bene tutto però può essere limitativo invece vedi seguire degli interessi seguire delle passioni qualcosa che per te davvero a valore è il canale privilegiato per conoscere anche persone interessanti persone targettizzate diciamo oggi profilate perché perché banalmente persone interessate a cose che interessano pure a te e allora se tu incontri persone che fanno cose che interessano pure a te capisci che quello è già un grande match poi come dicevamo a secondo punto io devo anche esplorare tutti gli altri aspetti culturali la visione dell'amore la visione della relazione banalmente cosa l'altro vuole davvero perché le persone nell'arco della vita cambiano un pochino i propri valori i propri desideri però va bene ecco coltivare già solamente i miei interessi incontrare quindi persone affini che amano quello che amo anch'io capisci che è già un passaggio di svolta importantissimo è già un'evoluzione importantissima rispetto a quella di stare lì fermo seduto ad aspettare che le cose accadono quinto passaggio importantissimo per attrarre nella tua vita una persona di valore è quello di semplicemente imparare ad essere una persona paziente perché vedi tutte le cose che ti ho detto finora sono cose che necessitano di tempo per essere costruite perché perché tutte vanno a collaborare nella costruzione di una tua identità specifica se tu facessi tutto quello che io ti ho detto oggi quindi ti prendessi davvero cura di te stesso davvero ti amassi lavorassi sulla tua visione dell'amore svilupparsi tu interessi uscendo dalla tua zona di comfort tu diventeresti davvero una persona migliore e questo richiede tempo questo richiede tempo questo richiede tempo di investimento nella propria crescita personale nella propria evoluzione e anche la vita stessa ai suoi tempi alle volte capita di non incontrare nessuno di interessante per anni poi a un certo punto poi accadono le cose sarà successo anche a te ecco questo è la vita la vita è fatta così e noi dobbiamo imparare a seguire i flussi della vita riconoscerne i movimenti riconoscerne le fluttuazioni ea vivere in armonia con esse per cui il quinto punto è questo sii paziente e aggiungerei un pezzo sii paziente fiducioso abbi fede abbi fede io non so in cosa è fede tu ma abbi fede abbi fede veramente nell'universo in te stesso non dico in dio ma se ci riesce è ottimo è bellissimo avere fede in dio una grande potenza questa ma anche solamente abbi fede in te stesso abbi fede nel fatto che le cose possono accadere perché le cose accadono le cose si manifestano se noi abbiamo fiducia per cui sii paziente e abbi fiducia e nel frattempo fai tutte queste altre cose che ti ho detto vedrai che le cose accadranno e se questo che ti ho detto oggi ti è stato utile ti sarà utile per favore condividilo nei commenti perché questo sarà utile negli anni anche a tante altre persone che magari inizieranno a fare queste cose e alla fine riusciranno davvero a coronare questo sogno d'amore che che è bello non dico che non sia bello anzi è stupendo però che necessita di tutte queste premesse perché vedi se io semplicemente incontrassi una persona in un momento di difficoltà in un momento di solitudine un momento in cui ancora io non so nemmeno chi sono questo potrebbe essere anche molto bello però io poi cambierei diventerei un altro e allora poi magari negli anni chi lo sa invece arrivare incontrare l'altro davvero come un compagno di vita col quale ora costruire insieme una vita ma partendo da una radice forte che io ho già elaborato dentro di me ecco questo è davvero davvero impagabile bene mi auguro davvero che tutto questo ti sia utile per rimanere aggiornato sui miei prossimi video su tutti i contributi che realizzo online ma anche sui prossimi incontri eventi che organizzo ti invito ad andare nel mio sito ericogamba.org iscriviti alla mailing list così da poter rimanere aggiornato su tutto a presto